Allora, possiamo partire. Buonasera a tutti. Nel frattempo, mentre consentiamo a qualche amico di aggiungersi, porgo tutti voi i miei saluti. Siamo alla ventesima giornata. Facevo il calcolo oggi pomeriggio di quando con tutte le istituzioni per la prima volta abbiamo iniziato a riunirci, a confrontarsi. Era sabato 22 febbraio alle 11 del mattino. Il prefetto ci convocava e iniziavamo a prepararci nel caso in cui anche da noi fosse arrivata questa emergenza e quindi a dare delle risposte. Se il 22 febbraio è stato il primo giorno, oggi con il 13 di marzo la matematica non è un'opinione. È il ventesimo giorno che affrontiamo le problematiche relative a questa emergenza. Vorrei iniziare nuovamente dai ringraziamenti. Ringraziamenti dovuti, naturalmente, parto dal nostro ospedale. Parto di nuovo dal nostro ospedale, da tutto il personale medico, dottori, infermieri e a tutta la struttura, semplicemente per fare un collegamento. Molti cittadini mi hanno chiesto nelle scorse ore, ma credo che molti di voi già sappiano che è in corso una campagna di sensibilizzazione, per ricordare che domani alle ore 12 in tutta Italia si vorrebbe proporre un'iniziativa. Un'iniziativa semplice che consiste nell'aprire la propria finestra di casa, il proprio balcone, affacciarsi e battere le mani. Questo grosso applauso per il personale sanitario che si sta sacrificando per noi, che è in prima linea fin dal primo momento. Quindi volevo iniziare questa nostra diretta con questo evento. A riguardo ho ringraziato a destra e a manca tutti coloro che in qualsiasi modo ci stanno impegnando per dare un servizio e consentitemi in particolar modo questa sera per spendermi, non l'ho fatto nei giorni scorsi, per tutti i dipendenti e i volontari della Croce Verde e della Croce Rossa. La nostra Croce Verde e la nostra Croce Rossa che tutto l'anno sono a nostra disposizione, sono a disposizione delle famiglie in caso di bisogno e che in questo momento sono ancora più oberati di lavoro, di stress e che sono come anche tutti gli altri prima citati in prima fila per garantire un servizio e per aiutarci con la loro attività a venire il prima possibile fuori da quello che ci sta capitando. Vi chiederei se è possibile condividere questa diretta in modo che condividendola voi possa raggiungere più persone e le cose che dirò eventualmente possono essere condivise ancora non soltanto dai miei contatti. Tornando all'ospedale, segnalo che sono in corso numerose iniziative partite soprattutto da giovani, da studenti ma non solo per raccolte fondi, molte che stanno anche producendo interessanti ritorni e che servono tantissimo alla nostra struttura ospedaliera. Conosco molti organizzatori di queste raccolte, come vi ho detto le cose sono vigilate quindi c'è chi sta guardando che in mezzo alle tante iniziative buone non si inserisca il solito furbo che in queste circostanze cerca di approfittarne però io per maggiore sicurezza ho contattato negli giorni scorsi l'ASL e finalmente mi è stato detto che sul sito dell'ASL è stato pubblicato un IBAN dove direttamente se uno non conosce gli organizzatori di una determinata iniziativa se uno non si fida, se uno per qualsiasi motivo collegandosi all'ASL si può venire in possesso dell'IBAN dell'ospedale. è molto semplice, quindi www.asl.at.it si trova nella parte inferiore di questa prima schermata vicino al simbolo della regione Piemonte il simbolo della regione Piemonte rimane a sinistra alla destra del simbolo della regione Piemonte si trova da schiacciare entra nel sito una volta entrati nel sito sulla parte destra c'è una tendina per i comunicati stampa lì potrete trovare per chi vuole donare in quella rubrica, in quella paginetta che vi si apre c'è l'IBAN, ci sono le modalità per far giungere al nostro ospedale degli aiuti aiuti quanto mai necessari in questo momento per acquistare materiale, per acquistare tutto quello che può servire per cercare di gestire al meglio questa emergenza per far sì che i dipendenti dell'ospedale possano lavorare al meglio nella sicurezza loro e rendendo il miglior servizio possibile a noi cittadini ci tenevo a segnalarlo perché veramente molti stanno facendomi arrivare delle domande ma che cos'è questa raccolta, ma conosci, non conosci allora se si conosce, si ha la certezza di poter entrare in un gruppo di benintenzionati e ce ne sono tanti e li ringrazio, fatelo nel caso in cui abbiate dei dubbi piuttosto attraverso il collegamento al sito dell'ASL potrete trovare l'Iban per farlo direttamente venendo l'attività che noi stiamo svolgendo avete visto ieri si è svolta una giunta questa mattina sono continuate delle riunioni un po' a 360 gradi stiamo cercando di garantire comunque l'attività del comune di Asti state vedendo tantissimi cantieri in giro con l'assessore Morra abbiamo chiesto che certi lavori vengano fatti e che se ne facciano altri che erano magari previsti nelle prossime settimane compatibilmente con la sicurezza dei dipendenti di quelle aziende compatibilmente con il fatto che si riesca a continuare a trovare il materiale per svolgere quei lavori si cercherà di fare il più possibile prima di riprendere la normalità e quindi le strade che vedete che si stanno spaccando in questo periodo sono soprattutto per mettere la superfibra e quindi Open Fiber che sistema con milioni di investimenti nella nostra città una fibra che consentirà dopo a tutti i privati e aziende a connettersi con delle velocità impensabili solo fino a qualche tempo fa con l'assessore Cotto stiamo dandoci degli obiettivi delle priorità ma stiamo essenzialmente occupandoci di tutti per lasciare nessuno indietro in particolar modo per i più sfortunati e quindi la mensa sociale sta continuando a dare il suo servizio grazie a volontari della Croce Rossa sono cambiate le modalità ma chi la si rivolgeva e continua a rivolgersi può ancora trovare il suo pasto a pranzo la spesa a casa come avevamo detto grazie al nostro Vescovo grazie anche alla Pastorale Giovanile e a Don Rodrigo che sono i nostri più diretti partners sembra che ad oggi siano arrivate l'adesione di più di 100 giovani con età superiore ai 18 anni che si sono resi disponibili a portare sia alimenti e andare a fare quindi la spesa per degli anziani che non possono muoversi di casa seguendo le prescrizioni e sia magari medicinali questa è un'altra importante iniziativa di solidarietà che fa grande veramente la nostra città stiamo anche cercando di rendere il dormitorio H24 se stiamo dicendo come l'ho già detto ieri alle persone state a casa dobbiamo pensare che qualcuno la casa non ce l'ha quindi a quel qualcuno in questo momento bisogna cercare in un qualche modo di garantirla non possiamo immaginare che se fino ad oggi il dormitorio è aperto alle 7 di sera per dare da dormire a queste persone queste persone alla mattina vengono messe alla porta e che inizino a girare per la città mettendosi naturalmente la loro salute al repentaglio e magari mettendola anche ad altri per cui abbiamo chiesto la loro disponibilità a rimanere all'interno del dormitorio noi stiamo attivando ci saranno dei costi in più da sostenere ma troveremo le risorse ma come abbiamo detto nessuno in questa fase deve rimanere indietro deve sentirsi dimenticato cercheremo di portare anche il pranzo oltre che alla cena e far sì che queste persone in quei locali possono rimanere agevolmente e trascorrere il tempo necessario con il vice sindaco Marcello Coppo ci stiamo indirizzando invece per le agevolazioni sulle imprese sono veramente tanti quelli che hanno dei problemi sono tante veramente le partite IV che soffrono soprattutto i piccoli e i medi faranno fatica a ripartire in quel momento non adesso perché oggi siamo ancora nell'emergenza ma nel momento in cui bisogna ripartire bisognerà fare un appello alla città una città che dovrà cercare di comprare sempre meno online da queste grandi catene ma dovrà ritornare a comprare i nostri negozi a franquattare i nostri ristoranti i nostri bar anzi che andare in altre città perché solo così potremo dare una mano a queste persone a ripartire e a dare occupazione perché ognuno di questi signori chi con uno, chi con due chi con alcuni dipendenti dà del lavoro degli altri astigiani in questo momento col vice sindaco dicevo si stanno verificando alcuni provvedimenti come vi ho detto il vice sindaco relativamente agli ambulanti stava verificando in che modo non far pagare il plateatico e con quali modalità stiamo cercando di creare se ne sta occupando Marcello e credo che o attraverso i canali moderni o con un comunicato stampa comunque nelle prossime ore i prossimi giorni farà sapere in sostanza vorremmo dare un spazio sul sito del comune a tutte quelle attività della ristorazione che possono essere pizzerie che possono essere bar che possono essere ristoranti e che hanno le caratteristiche per portare a casa il mangiare alle persone quindi è vero non potranno esserci gli incassi che c'erano prima ma piuttosto che niente mi hanno sempre insegnato meglio piuttosto e magari attraverso la pubblicità che faremo a questi locali in questo periodo dicendo che comunque mettendo i loro numeri di telefono i loro recapiti potranno essere contattati per portare al cliente a casa la cosa si faranno i pasti si faranno magari la pubblicità e acquisteranno dei clienti anche per il dopo è una cosa che in via di sviluppo e che a presto il vice sindaco comunicherà alla cittadinanza di queste agevolazioni non soltanto quelle delle imprese ma anche a quelle dei privati cittadini ci confronteremo appena possibile nei prossimi giorni non appena troveremo lo strumento telematico per poterci incontrare confrontare anche con le minoranze che si erano date disponibili molti consiglieri mi hanno chiamato o mi hanno scritto per confrontarsi e vedere quali iniziative andare a prendere naturalmente quelle che possiamo prendere noi nel rispetto dell'equilibrio del nostro del bilancio in attesa di capire più in profondità quali saranno gli indispensabili aiuti che comunque o dall'Europa o dallo Stato o dalle Regioni dovranno arrivare perché questo sarà indispensabile ma guardate che l'amministrazione comunale si mette in questo momento con i cittadini con le imprese siamo allo stesso livello non siamo purtroppo noi che possiamo risollevare queste categorie queste persone noi possiamo fare la nostra parte e non ci tiriamo indietro ma anche noi come loro abbiamo bisogno dallo Stato che ci dica come delle spese che stiamo sostenendo in questo momento o dei mancati incassi o tutta una serie di situazioni negative che anche a noi stanno capitando potranno essere così stemprate potranno essere eventualmente coperte da risorse che arrivano dall'alto a riguardo oltre all'assessore Coppo l'assessore Bologna che ha seguito le iniziative estive che quindi particolarmente era afferrata sul discorso di Deor dei locali ha proposto e stiamo valutando anche delle riduzioni dei costi sui Deor ai bar anche queste sono in via oltremente di consentire di poter allargare senza pagare ulteriori costi con l'assessore Berzano che è l'assessore all'ambiente e i merito che è un medico quindi oltre alle cose che fa per la cultura di professione è un medico stavamo cercando di rispondere a una delle domande anche qui che maggiormente ci arriva dai cittadini i cittadini vedono i cinesi quelli di Seul i giapponesi che arrivano nelle strade spruzzano dei liquidi di qualsiasi tipologia poi magari vedono su internet che qualche comune sta facendo delle iniziative di questo tipo allora noi già da tempo abbiamo domandato all'ASL se e non soltanto all'ASL in particolar modo al servizio di igiene pubblica se questi interventi erano interventi che si potevano fare che si dovevano fare e che se soprattutto erano più che altro di figura tanto per dire facciamo qualcosa e ce ne frega del dei ritorni effettivi che ci sono o se invece erano consigliati ebbene dall'ASL dal servizio di igiene pubblica ci è arrivata così la notizia che sono interventi che servono pochi a poco così fatti in questo modo e che è meglio concentrarsi eventualmente sulla sanificazione diciamo magari in questo modo qua o disinfezione perché l'esatto termine stavo cercando l'esatto termine per non essere poi ripreso da qualcuno molto puntiglioso che sicuramente ci segue la disinfezione è più appropriata e stiamo verificando in che modo farla eventualmente sulle panchine eventualmente su maniglie di scale eventualmente su degli oggetti che possono venire toccati da delle persone da più persone e quindi eventualmente poter portare dei problemi anche qui tutto quello che sarà necessario fare non ci terremo indietro e lo faremo non andiamo a fare visto che le risorse sono quelle che sono delle cose che non servono su ogni cosa non è una decisione che magari è il politico che si assume o dietro all'iniziativa che fa vuole nascondere faccio vedere qualche cosa ci confronteremo sempre con le autorità sanitarie ci confronteremo sempre con soggetti che tecnicamente ci potranno dire se facciamo bene o no se le cose che sono da fare si faranno se invece non sono da fare non si andranno a fare con Bona col comandante Saracco con tutto il corpo della polizia municipale c'è un carico di lavoro che è incredibile oltre alle normali attività che la polizia municipale deve svolgere ci sono tutta una serie di iniziativa che fortunatamente sono concertate con le altre forze dell'ordine la città è stata divisa in settori ognuno delle forze dell'ordine quindi questura carabinieri guardia di finanza e la polizia municipale segue in particolar modo una zona e in quella zona fa attività per cercare di far rispettare quello che è il decreto del presidente del consiglio dei ministri quindi un grazie va anche a loro in prima fila in prima linea tutti quanti con un'attività comunque importante e utile per cercare di venire il prima possibile fuori da questa situazione l'assessore Predegalla mi ha comunicato che comunicherà lunedì degli interventi che sono allo studio soprattutto diretti verso i nostri nidi e per finire visto che l'assessore ha il personale e che riguarda quindi un po' tutte le cose che ci siamo detti fino adesso con l'assessore Bovino noi questa mattina abbiamo scritto anche i nostri dipendenti per ringraziarli per ringraziarli perché stanno garantendo tutti i servizi perché insieme a noi insieme all'amministrazione stanno facendo tutto quello che bisogna fare per rispondere a quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini quindi noi ci siamo siamo sul pezzo continuiamo a lavorare importante e occupo un minuto del tempo di questa sera è un appello che vedo fare questa sera anche da Borrelli ho visto fare anche nella sua conferenza stampa delle 6 da Borrelli e da altri è l'appello dell'Avis a donare sangue sembra che questa situazione abbia portato una diminuzione delle donazioni le donazioni servono mai tanto come in questo momento noi io ho cercato di dare l'esempio l'esempio ho questa mattina donato per la prima volta nella mia vita la donazione in sé il prelievo dura una decina di minuti per me la prima volta è durato un'ora e un quarto perché ho dovuto compilare dei moduli mi hanno dovuto sottoporre una visita medica mi hanno dovuto fare delle prime analisi e soltanto nel momento in cui tutte queste cose hanno dato un esito positivo ho potuto poi fare la donazione quindi farmi prelevare il sangue quindi per chi non ha mai donato e vuole spendere bene il tempo che magari ha perché in questo momento a casa ecco questo è un motivo che giustifica l'uscire da casa uscire da casa per recarsi all'ospedale per donare il sangue è una cosa che si può fare quello che voglio dire per tranquillizzarvi e magari anche tranquillizzare i donatori che sono donatori da una vita ma che in questo periodo magari per paura di essere infettati o che si sono mossi di meno è che il tutto avviene nella massima sicurezza io sono arrivato sono rimasto sempre distante dalle persone che avevo intorno quando mi hanno seduto per levarmi il sangue ero distante dalla persona che avevo di fianco è stato fatto con più passaggi con il disinfettante tutte le cose sono state fatte per cui ritengo che si è nella totale sicurezza di compiere questo gesto che è davvero molto importante a riguardo voglio dare un numero per coloro che volessero mettersi nei prossimi giorni in contatto e sapere quanto andare quali sono le modalità 0141 2104 10 è importante mai più che oggi donare relativamente invece ai dati di oggi così arriviamo alla parte che si aspetta sempre di questo mio collegamento ieri abbiamo detto che rispetto a mercoledì la giornata di ieri giovedì presentava tre nuovi casi positivi devo dire che sono anche oggi pochi i casi in più rispetto a ieri quindi il trend astigiano è per il momento sotto controllo ci fa ben sperare vuol dire che ci stiamo anche comportando bene anche se non basta anche se bisogna continuare anche se non bisogna demordere non bisogna arrendersi bisogna continuare a essere virtuosi e rispettosi dei comportamenti poche unità in più che però mi è stato chiesto di non quantificarvi in quanto sono ancora in corso gli accertamenti su alcuni di questi per vedere la positività o no per cui non vi do un numero se non purtroppo quello di primi due decessi nella nostra provincia sono veramente spiaciuto l'avete già letto sui giornali online ma anche credo sulla stampa carta stampata questa mattina registriamo i nostri primi due decessi va da parte di tutti noi alle famiglie la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze voglio lasciarvi questa sera con un pensiero è una favola è un racconto diciamo così africano in una foresta piena di animali è scoppiato all'improvviso un incendio un incendio disastroso dalle proporzioni impensabili che non era mai capitato in quelle dimensioni prima tutti gli animali hanno iniziato a uscire dalle rotane e a fuggire il leone il re della foresta nella corsa verso la salvezza si accorge che un colibri sta mandando in senso inverso allora si ferma raggiunge il colibri e chiede al colibri sei pazzo stai andando nella direzione sbagliata cosa pensi di fare dove pensi di andare la salvezza dall'altra parte il colibri dice al leone sto andando verso il lago a prendere dell'acqua per spegnere l'incendio il leone allora molto stupito ribadisce ma allora sei pazzo davvero cosa pensi con le poche gocce che riuscirai a mettere nella tua bocca di spegnere questo incendio e il colibri ancora più convinto dice io intanto faccio la mia parte questo messaggio deve essere molto chiaro ognuno di noi deve giocare in questa partita la sua parte ognuno di noi è indispensabile al fine del risultato finale se ognuno di noi farà il suo usciremo da questa cosa il prima possibile e potremo ripartire grazie a tutti per la collaborazione buona serata grazie a tutti